ciao buongiorno e ben ritrovati oggi insieme a martina prepareremo dei piccoli dolcetti facili facili per halloween dei dolcetti che potranno preparare anche i bambini sei pronta abbiamo qui due rotoli di pasta sfoglia non l'abbiamo presa rettangolare ma va bene anche rotonda e poi degli stampini a forma di questo è un fantasma poi abbiamo scheletro brava il teschio di uno scheletro e poi una zucca e faremo dei dolcetti con queste formine iniziamo dai dal fantasma prendi forte forte toglie vediamo perfetto poi ne facciamo un altro un altro ancora ritagliamo i nostri fantasmini riempiremo i nostri dolcetti con una crema alle nocciole dobbiamo un pochino spalmare la cioccolata con una mano tieni il fantasmino e con l'altra stendi poi con i beccucci della sac a poche disegniamo su queste che abbiamo lasciato vuote gli occhi e la bocca si gli occhi e la bocca del fantasmino allora dobbiamo fare con questo facciamo gli occhi un occhietto qui un occhietto qui e la bocca qui vai spingi forte tira su brava togli e ora cosa dobbiamo fare mettiamo questo sopra questo ti faccio vedere lo faccio io il primo così poi col ditino spingi qui solo sui bordi dobbiamo attaccare bene guarda cos'è brava facciamo gli occhi a quest'altro fantasmino brava e poi la bocca la bocca vai e ora mettiamolo sopra questo questo amore questo minuti un braccino si è spostato e ora cosa devi fare col dito devi premere bene sui bordi bravissima e adesso dopo i fantasmini cosa facciamo zucca dai bene una zucca continua avanti ne facciamo sei anche di zucche molto brava la prendo io ancora mai gioco sei dobbiamo tagliarne vai io ti tengo la zucca ferma brava anche sotto e ora dobbiamo disegnare la faccia le nostre zucche quindi facciamo gli occhi così e poi una bella bocca che ride che dici anche col dentino sì e ora con questo e poi dove la mettiamo brava lì sopra e anche qui dobbiamo schiacciare i bordi e poi guarda possiamo usare anche questo oppure con un dito schiacci tutti i bordi brava disegna tu gli occhi alla zucca due triangolini per fare gli occhi è difficile e infine il credito lo scheletro il teschio dello scheletro spingi forte anche qui ne facciamo sei spalmiamo la crema al cioccolato anche sui teschi e ora disegniamo ritagliamo anche gli occhi qui guarda lo giriamo così qua gli occhi qui del teschio uno due poi facciamolo guarda te ne faccio vedere uno il triangolino del naso così e questo lo puoi mettere qui sopra lo metto io schiacciamolo schiaccia bene i bordi e ora con un tuorlo d'uovo spennelliamo tutti i nostri dolcetti e ora li mettiamo in forno ed eccoli pronti i nostri dolcetti li abbiamo anche fatti un po' raffreddare e abbiamo messo da una parte le zucche e dall'altra i fantasmini con i teschi e ora un po' di cosa mettiamo? sale come sale? cos'è questo? farina non neanche assaggia lo zucchero un po' di zucchero a velo così vestiamo di bianco i fantasmini e i teschi così ti aiuto poi dopo gli occhietti sugli occhietti lo zucchero si scioglie non ti preoccupare e tornano scuri per oggi è tutto tutto noi vi salutiamo e ci vediamo domani e non assaggiamo ora presto ci vediamo presto assaggia sì assaggi uno vai com'è la cioccolata? no com'è? buona mmm